Esaltare al massimo uno dei mix più classici, caffè, cioccolato e latte. Latte trasformato fino ad ottenere una crema morbida e soffice, proprio come la neve, neve fondente. Per prima cosa preparate l'espresso. Prendete il latte fresco intero direttamente dal frigo e versatelo direttamente nel bricco. In questo caso sto preparando la ricetta per due persone, quindi utilizzo circa 120 ml di latte, più o meno l'equivalente di due tazzine di espresso piene. Aggiungete 20 ml di zucchero liquido e due cucchiai di cacao. Mescolate bene con un cucchiaio e poi andate a scaldare con la lancia del vapore. Attendete fino a quando avrete amalgamato bene tutti gli ingredienti. Aggiungete l'espresso e roteate il bricco. A questo punto versate il tutto nel bicchiere. Ora ci serve il latte totalmente scremato. Anche in questo caso deve essere freddo, quindi lo prendo dal frigo. Mettetelo nel bricco e lavoratelo con questo strumento. E un frullino ci servirà a lavorare il latte fino a raggiungere una crema molto densa e compatta. Servirà a giusto qualche secondo. Roteate bene il bricco per amalgamare. Quando vedete che la superficie diventa bella lucida potete versare. Ed ora per ultimare una bella spolverata di cacao. Pronta! Assaggiamola! Morbida e intensa. Proprio fantastica! !